Allora, buongiorno Samuel, come stai? Allora, molto spesso io ti ho chiesto, hai girato il mondo, sei stato in... Diciamo in quasi tutte le parti del mondo, ok, usiamo il termine quasi. E di conseguenza, ogni volta che mi ha dato dei consigli su delle location, posso confermare che i tuoi consigli sono sempre stati giusti. Quando mi hai detto, morri, guarda, Palma è uno tra i posti migliori e via. Allora, oggi, nel 2023, dopo gli ultimi viaggi che hai fatto, ricordiamo che il signore fa un viaggio all'anno, un viaggio al mese, ragazzi, eh? Cioè, tipo, la massa la fa uno all'anno, tu le fa uno al mese. Allora, ti rifaccio questa domanda. Se dovessi scegliere un posto dove vivere, dove andresti? Grazie, Morris, per la domanda. Allora, devo dirti la verità, il posto perfetto, prima di tutto, ci tengo sempre a dirlo, non esiste. Nel senso che non è che c'è un posto che va bene per tutti, in qualsiasi caso. Questa qua è la prima grossissima verità, ragazzi, che bisogna assolutissimamente sapere e avere bene in testa. Esistono dei posti che vanno bene in determinati tipi di circostanza. La prima cosa che io mi sento di dire è che dove mi trasferirei io? Concentriamoci magari su questo genere di domanda. Vediamo se posso andare tu. Dove mi trasferirei io adesso? Allora, io ho una mente sempre legata al business, all'attività commerciale, a lavorare, alle opportunità e a cercare di andare a creare delle situazioni che producano denaro. Non è che lo faccio con il fatto di dire, ah, sono ossessionato dai soldi. È semplicemente che il mondo in cui viviamo adesso, nel 2023, richiede, per forza di cose, di generare denaro. Non possiamo in nessun modo, in nessun modo, girarci attorno. Quindi questa qua è sempre la mia, diciamo, preoccupazione e pensiero iniziale di testa, ok? Chiaramente sì, qui bisogna sapere che i freni della Ferrari sono molto, molto sensibili, primo. E secondo, in America, quando si arriva a un incrocio, ci sono quattro stop e non è mai chiaro di chi sia la precedenza. Ogni volta che mi vedono mi fanno sempre passare, però io ancora non ho capito di chi è la precedenza. Quindi torniamo a dove vivrei, sicuramente non è in America, ci troviamo a Los Angeles in questo momento. Per esempio qua un altro stop, di quelli che non si capisce chi ha la precedenza, però non c'è nessuna macchina e andiamo. Quindi non vivrei mai in America, non vivrei mai a Los Angeles, sicuramente. Va bene solo in vacanza, dove siamo in questo momento. Ed ecco che quindi vado a scegliere un pochino i posti dove io andrei a vivere. Vado a scegliere i posti, dicevo, proprio legati al fatto delle opportunità di business. In questo momento, ragazzi, io ho due posti in mente. Uno che conosco molto bene, che è la Polonia. Ne ho già parlato molto bene in altri video. Devo dire la verità, la Polonia è uno di quegli stati che si sta evolvendo. È uno di quegli stati che, anzi, è già evoluto. È molto più bello di quanto una persona. Allora, il clima in Polonia è molto simile all'Italia. Il clima in Italia è molto, molto simile. Ci sono quattro stagioni, sicuro, al 100%. È una cosa importante che bisogna sapere, è che in Polonia fa caldo in estate. Molte persone credono che faccia freddo. In Polonia no. In questo momento ci sono 26-30 gradi. In generale fa meno caldo che il Sud Italia, quindi sta bene. Perché in realtà il Sud Italia o a Milano si muore di caldo. Quindi la Polonia, sotto questo punto di vista, ha un ottimo clima e può sciare senza problemi. Io sono andato a sciare quest'anno a Zakopane e ho sciato molto bene. E come sono le donne della Polonia? Come sono le donne della Polonia? Allora, mia moglie è polacca, quindi io posso solo, unicamente, parlare bene delle donne polacche. Per un semplice motivo, ragazzi. Sono delle donne molto forti. Sono delle donne che hanno le idee chiare. Sono delle donne che effettivamente nella vita, come posso dire, sono indipendenti. Non sono... Ci sono delle persone che gli piace avere una donna dipendente. Cioè la donna che magari ha bisogno, sai, del vostro aiuto per prendere qualsiasi genere di decisione. Ma ci sono delle persone che invece vogliono delle donne indipendenti. Le donne polacche sono indipendenti, fanno tutto da sole. Non sono abituate, sono cresciute in un contesto in cui bisogna essere indipendenti. Quindi è una delle cose sicuramente positive. Cambiando discorso, invece, parlando di costo della vita in Polonia, come? Il costo della vita in Polonia sicuramente è molto più economico che vivere in Italia. Esempio? Tipo quanto costa un affitto? Allora, un affitto... Sì, certo. Allora, la Polonia chiaramente va divisa tra le città normali e le grandi città, che sono Warsaw, Varsavia, e Krakow, che è Cracovia. Le due grandi città hanno degli affitti, non dico paragonabili a quelli italiani, ma che comunque sono molto, molto più alti in confronto a tutte le altre città della Polonia. Quindi la prima divisione, bisogna capire molto dove una persona si sta andando a trasferire. Se ti trasferisci in una grande città, chiaramente non puoi aspettarti di pagare bono. Anche in questo caso i quartieri sono divisi in zone ricche e zone... non dico per poveri, ma zone normali. Io ho degli amici che vivono a Varsavia, per esempio, hanno un appartamento da 150 metri quadri con un terrazzo enorme e l'appartamento è stato acquistato a 200.000 euro, che comunque è un prezzo ancora molto basso perché sarebbe come vivere in una zona prestigiosa di Milano. E 150 metri quadri a Milano con terrazza non è fattibile a 200.000 euro. Quindi chiaramente i prezzi sono molto più bassi. A livello di affitto, in centro, in Polonia, siamo sui 1.000 euro d'affitto, mentre per quanto riguarda fuori si scende tranquillamente a 400-500 euro almeno. E invece, scusa se ti interrompo... Domanda delle domande. Parliamo invece di fiscalità, di tassazione, perché sai, tu parli di fare imprenditore, a una persona, se un imprenditore vuole trasferire, si vuole sapere anche quanto si paga di tasse. Com'è un po' la situazione? Allora, la parte fiscale della Polonia, devo ammettere, non la conosco in maniera precisa. A me, come sempre, non piace per sentito dire. Quindi non so esattamente, sapete tutti gli scaglioni che ci sono in Polonia. Sicuramente la tassazione è più bassa dell'Italia. Questa è una certezza, perché chiaramente è tutto più basso dell'Italia. Devo dirvi la verità, le persone che conosco io, magari lavorando nel digitale, comunque sfruttano il fatto poi di avere magari società anche all'estero che non sono polacche e quindi riescono comunque a mantenere un regime fiscale agevolato. Io ho il motivo per cui consiglio della Polonia. Infatti, non è tanto per il trasferirsi, chiaramente per fare il dipendente non ha senso, ma è per le opportunità di... Polonia, ragazzi, sono le opportunità di business. Cioè, che cosa significa? Significa che è qualcosa che la nazione sta crescendo. La popolazione ha sempre più potere di acquisto. Quindi le persone vogliono mangiare a ristoranti di classe, vogliono, che ne so, magari comprare determinati tipi di mobili, vogliono determinati tipi di servizi, andare dal parrucchiere costoso, vogliono andare a fare, che ne so, al centro massaggi, tutte cose che sono lussuose. E per la Polonia diventa davvero un qualcosa che in questo momento si aprono mille possibilità, perché magari il centro massaggi non ha quell'esperienza che può avere un centro massaggi italiano che esiste da dieci anni, vent'anni, perché è tutto nuovo. Quindi, quando una persona porta il modello collaudato in un ambiente vergine, chiaramente, come quello della Polacco, ci sono grosse possibilità imprenditoriali. Lo stesso, infatti, vale per l'Albania, che è un altro posto. Ne ho sentito parlare molto bene. Ho fatto un'intervista a Max, che vive in Albania ormai da tre anni, e mi ha proprio raccontato che è un posto vergine, dove ci sono opportunità di business, perché loro non conoscono quello che, diciamo, è la realtà magari italiana, francese, spagnola, no? Quindi è tutto nuovo e davvero è eccezionale. Invece, parliamo di un altro aspetto, della, sai, quando uno si vuole trasferire con la famiglia, guarda due aspetti. La delinquenza e l'istruzione scolastica. Allora, cosa offre la Polonia nei confronti, sia delle famiglie che hanno i figli, ma anche a livello di sicurezza? Allora, partiamo dalla domanda sul discorso della sicurezza, no? E sul fatto di cosa offre a livello delle famiglie. Ci sono due importanti riflessioni da fare. Una, io non sono assolutissimamente razzista in nessun modo, ma è un dato di fatto che l'immigrazione da determinati stati porta, è una statistica reale, più delinquenza. In Polonia non c'è quel tipo di immigrazione. Quindi non essendoci quel tipo di immigrazione, automaticamente la delinquenza è bassa. Questa è la prima grossa verità. La seconda cosa è, a livello familiare, chiaramente una persona che cerca una scuola per il proprio figlio, lo porterà in una scuola privata. Quindi anche in questo caso nelle grandi città ci sono le scuole private perché ci sono moltissime persone che lavorano per multinazionali in Europa che arrivano da altri stati, Inghilterra, Francia, Germania e via dicendo, e queste persone hanno bisogno di scuole internazionali, scuole in inglese. E quindi i figli vanno poi a queste scuole internazionali. Quindi anche questa è un'altra cosa importante. Certo, non sembra un po' razzista dire l'immigrazione comporta questo. Però, vabbè, quindi principalmente ci sono polacchi in generale. Questo cazzo fa. Cioè, extracomunitari, quindi non c'è il fenomeno dell'Italia. No. Di avere tanti... No, 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 no. Cioè, e non è un questione di... Ecco, un errore che le persone fanno pensano che sia un discorso razzista. Io faccio un discorso puramente statisco. Nelle prigioni, nelle carceri italiani, X per cento appartiene magari a un determinato tipo di background sociale, a un determinato tipo di nazione, no? Questa è statistica, non è... Non è una specie di lavoro. Sai, non tutti sono imprenditori, quindi quando uno si trasferisce magari vorrebbe anche lavorare con la società, magari anche come interprete italiano, eccetera. Ok. Allora chiedo, si trova lavoro facilmente e quali sono i salari? Allora, prima di tutto, per trovare lavoro facilmente con un buon salario bisogna chiaramente... Scusate, ma c'è un idiota davanti che assolutamente non sa guidare. Facciamo una sgasata così. Allora, dicevo, praticamente cosa succede? Quando una persona va a trovare un lavoro in Polonia, chiaramente lavoro della ristorazione, lavori classici, non ne vale la pena. Sconsigliatissimo. Bisogna assolutissimamente sapere l'inglese e il polacco per poter ottenere dei lavori manageriali che vengano pagati bene. Lo stipendio può essere per figure importanti superiore anche a quello che prendereste in Italia, perché vuol dire che loro ti stanno proprio cercando. Però non è il motivo per cui mi trasferirei né in Polonia né in Albania. Soprattutto in Albania gli stipendi sono molto bassi in questo momento ancora, perché siamo molto acerbi, ok? Però chi guadagna tanto è l'imprenditore. L'imprenditore che arriva, trova l'opportunità di business e allora in quel caso lì riesce davvero a guadagnare tanto, ma... Bene. Per concludere l'intervista, ti consiglio di sentire quelle persone che magari potrebbero trasferirsi in Polonia? Allora, le persone che vogliono trasferirsi in Polonia, secondo me la prima cosa che devono fare è fare il classico viaggio esplorativo. Non è un posto che uno si trasferisce così a caso. Adesso c'è una bella coda, ragazzi. Dove va questo? Cioè, tu insieme a voi su ClubSix avete creato un servizio di assistenza in quasi ogni parte del mondo. In Polonia offrite quel servizio? Allora, in Polonia in questo momento non offriamo il servizio di trasferirsi, lo offriamo in tantissime altre città. Un servizio che però offriamo è quello di capire se la Polonia è il posto giusto. Mi spiego meglio. Allora, noi chiaramente se offriamo un servizio, una consulenza, è solo unicamente quando una persona ci vive sul posto tanto tempo e poi dire, guarda, funziona in questo modo. Io conosco tantissime persone che vivono in Polonia, mia moglie è polacca, io sono stato in Polonia tantissime volte, ma in questo momento non abbiamo nessun contatto in lingua italiana. Mentre abbiamo delle persone che hanno la conoscenza di cosa significa trasferirsi all'estero e quindi sanno anche capire se la Polonia è il posto giusto. Perché dipende moltissimo da quali sono le attività. Per esempio sull'Albania, che invece abbiamo il servizio di trasferirsi, perché abbiamo qualcuno che vive in Albania, da tanti anni si è trasferito, fa l'imprenditore, aiuta altre persone a trasferirsi in Albania ed ecco che quindi allora può sicuramente aiutarvi in questo genere, in questo caso, in questa destinazione. Perfetto Sam, mille grazie per aver concesso con questa intervista. Se ragazzi siete curiositi, volete approfondire questo discorso, vi lascio il link in descrizione. Bye bye! Grazie a tutti ragazzi, ciao e ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti!